Buddha prese un pezzo di gesso rosso, tracciò un cerchio e disse se è scritto che due uomini, anche se non si conoscono, debbono un giorno incontrarsi può accadere loro qualsiasi cosa e possono seguire strade diverse ma al giorno stabilito, inaluttabilmente, essi si ritroveranno in questo cerchio rosso il film che verrà presentato in Italia con il titolo I senza nome Grazie a tutti 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 Sicuro, mi sono fermato qui per farti uscire e per farti respirare un po' Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti